ciao ciao a tutti bentornati nel mio canale oggi unboxing in collaborazione con il sito vi mostro cosa ho scelto per questa volta ho scelto esattamente 12 prodotti da questo sito ho cercato di prendere sempre dei prodotti nuovi interessanti per portare nuovi contenuti sul canale e ho scelto appunto come dicevo prima 12 prodotti questo invece è il codice sconto riservato ai miei iscritti e be 13 54 632 per avere appunto il 3% di sconto senza minimo di spesa vi lascio ovviamente tutti i link dei prodotti e anche ovviamente il codice sconto se vi occorre in descrizione di questo video vi mostro il primo prodotto che ho scelto in collaborazione con beat park è questo kit per i bottoni a pressione siccome la mia fissa del momento è quella di realizzare astucci portamoneti in ecopelle o in pelle ho pensato di scegliere questo kit per i bottoni quindi all'interno c'è tutto il necessario per poter inserire appunto i bottoni per poter fissare i bottoni come la pinza poi c'è il kit di fissaggio con tutti gli strumenti appunto di fissaggio sono appunto in acciaio ed eccoli qua che vi consentono appunto di fare sia il foro nel tessuto, nella pelle, nelle capelle e poi anche di posizionare i vostri bottoni in metallo all'interno del kit sono presenti anche diverse colorazioni di bottoni c'è appunto oro, argento, c'è bronzo e anche nero e per ogni singolo bottone ci sono quattro elementi poi vi mostrerò in un video dedicato come si fissano appunto i bottoni a pressione in metallo e poi ci sono all'interno di questo kit anche i rivetti stesso discorso anche qui ci sono quattro colorazioni differenti scusate il rumore di sottofondo ma ogni volta che provo a registrare un video succede sempre il finimondo quindi vi mostrerò in un video dedicato come si fissano appunto questi bottoni a pressione poi come secondo prodotto ho scelto altri rivetti questo è il codice, sono 200 rivetti in colorazione appunto acciaio queste me li immagino appunto come decorazioni per scarpe, per borse, per accessori e quindi spero di sperimentare anche con questi qui poi ovviamente sempre restando in tema ho scelto anche le copelle questo è il codice del prodotto, ho scelto tre fogli di questa bellissima ecopelle con questo finish rainbow che è davvero uno spettacolo e questa me lo immaginavo appunto come una sorta di piccolo portamonete o anche un astuccio e ovviamente realizzare le cuciture qui nei laterali e poi andare ad applicare al centrale dell'astuccio un bottone a pressione di quelli lì appunto metallici quindi niente, andrò a sperimentare anche con questa fantastica ecopelle poi ho scelto dal sito di Vidpark questo qui ed eccolo qua, che è una base per taglio da taglio, questo è il codice del prodotto ovviamente non è grandissima perché il formato è A4 appunto è un cutting mat e sopra ci sono tutte le numerazioni sia davanti che retro e sembra anche abbastanza spesso io questo più che altro voglio utilizzarlo per andare a tagliare le copelle con il taglierino per avere appunto una base d'appoggio oppure anche per i miei piccoli esperimenti con la carta e il cartoncino quando mi accorre appunto in alcuni punti di ripassare sempre con il cutter e quindi credo che mi sarà utile questa base poi ho scelto un altro prodotto che è un cartamodello aspettate che lo prendo ed eccolo qua è un cartamodello, ve l'ho detto che adesso mi sono un attimo focalizzata su pelle e copelle quindi realizzare anche pochette, astucci e quant'altro questo è il prodotto il codice del prodotto è qua sopra aspettate che era avvolto in questo metro di pluriball questo cartamodello, questo è appunto il codice del prodotto è un cartamodello fatto in plexiglass come vedete qui c'è la patina che va sollevata poi è tutto trasparente e questo è appunto il modellino per poter realizzare questo portamonete un attimino che apro la pagina sul sito di Bitpark così ve lo mostro anche la resa finale come vedete la pellicola va sollevata in modo che resta del tutto trasparente e questo è il modellino sul sito di Bitpark sono presenti altri tipi di cartamodelli per realizzare ovviamente altri modelli davvero molto carino, spero di esserne all'altezza perché questa è la mia primissima volta ogni tanto mi avventuro in queste cose che non ho mai fatto per sperimentare, per portare ovviamente nuovi contenuti sul canale speriamo bene poi vi mostro le altre cosine che ho scelto questi sono degli orecchini sono degli orecchini ovviamente sempre in acciaio aspettate che mi sono persa il terzo paio eccolo qua questo è il codice del prodotto sono orecchini sempre in acciaio come dicevo prima questi già li avevo scelti in passato nella misura da 25 mm adesso li ho presi anche nella misura 19 sono in acciaio con questo finish rainbow sono davvero molto molto belli bellissimi questi me li ha commissionati mi fratello infatti se ne è innamorato dei miei cerchi e quindi poi ho preso questa misura per lui perché anche lui ha questa pressione per i cerchietti e sempre per lui ha scelto anche questi altri due modellini questo è il codice questi sono sempre in acciaio con colore poi anche acciaio con questa forma esagonale davvero molto belli e ben fatti e questi credo che li prenderò anche per me ovviamente sempre con il finish oro perché io adoro l'oro poi l'ultimo modellino è questo qui sempre cerchio anche questi molto belli e ben fatti e come potete vedere sono davvero molto luccicosi sono molto lucidi come materiale e sono davvero molto molto belli e ben fatti anche loro sempre in acciaio ed eccoli qua questi tre questi tre anellini poi ho scelto sempre sul sito questi questi bracciali sempre in acciaio questo qua è il codice sono tre basi sono tre tre bracciali rigidi e sono davvero uno spettacolo anche questi davvero molto belli ovviamente vanno indossati in questo modo sono davvero bellissimi semplici ma davvero molto molto belli ovviamente questi qua si può pensare anche una piccola decorazione da fare su questi bracciali perché secondo me ma anche così semplici sono davvero molto molto belli e quindi all'interno di questo kit mi sono presenti appunto tre bracciali poi ho scelto questo qui che è un anello questo è un anello per me ma peccato che ho sbagliato la misura ho preso la misura 18 mm e mi sta troppo piccolo è in argento 9,25 è davvero molto bello è anche ben fatto come anello ve lo straconsiglio ma questa misura per me non va bene eccolo qua me ne sono proprio innamorata ha questa forma un pochettino particolare con questa curva con questi piccoli strassini ma è troppo piccolo per me è piccolissimo cioè mi va bene qui e quindi niente è piccolo però è davvero molto bello è ben fatto quindi ve lo straconsiglio se anche voi amate questi anelli un pochettino insoliti e particolari poi in argento 9,25 e vi lascio il link ovviamente in descrizione poi infine vi mostro gli ultimi due prodotti finalmente perline dico finalmente perché chi mi segue ultimamente vedrà che pubblico sempre cose dedicate magari alle fustelline oppure alla resina o anche ad altri hobby le perline da un bel po' che non pubblico nulla e quindi spero di ritornare con le perline questo è il primo codice del prodotto e sono delle gem duo credo che siano delle gem duo perché non toccando perline da tanto magari sbaglio anche il nome ma diamo un duo non sono perché non hanno quella forma bombata sopra sono le gem duo queste qui ed eccole qua hanno due fori e hanno questo colore davvero molto bello molto particolare questa sorta di verde con queste screziature dorate davvero molto molto belle quindi credo che andrò a realizzare un secondo progettino qualcosa di perlinoso quindi un mio ritorno alle perline alle mie amate barra odiate perline perché vado a periodi e e sono ben sei mesi con un perlino quindi aspettatevi una ciofeca e poi l'ultimo prodottino sono sempre dei questi qui sono dei bicono imitazione cristallo astriaco sono 200 pezzi da 4 mm e sono davvero ben fatti molto belli luminosi e sembrano anche molto molto regolari questi se non erano li ha testati già anche elisabetta che saluto ciao tesoro e e me li ha consigliati io li ho presi e vi dirò sono davvero molto molto belli e quindi testeremo e metteremo la prova anche questi bicono con un progettino insieme appunto alle gem duo ed eccolo qua sperando di non aver ecco che il colore è anche molto bello è una sorta di topaz e quindi con questo verde secondo me ci stanno perfette niente un primo progettino credo che sarà qualcosa appunto in merito con i bottoni di metallo a realizzare una stuccia in ecopelle e il secondo progettino invece sarà qualcosa di perlinoso io spero che questo video unboxing sia stato di vostro gradimento lasciatemi un like e un commentino io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con un nuovo video ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti